Un altro allenamento del mattino si è concluso, siamo con Danilo Colella, la sua terza stagione a Bitonto. Danilo, innanzitutto come stai fisicamente e come procede questo ritiro di Camerino? Tutto bene, il ritiro procede benissimo, ovviamente stiamo lavorando, doppia seduta ogni giorno, stiamo caricando parecchio, però l'importante è lavorare bene, sempre con il sorriso e prepararsi alla stagione che è importante. Le indicazioni che hanno dato i due allenamenti contro la rappresentativa locale e contro il Potenza Picena, le indicazioni sia da un punto di vista fisico tuo ma anche di amalgama della squadra? Da un punto di vista fisico ovviamente siamo in ritiro, quindi non c'è quella brillantezza che c'è durante la stagione, ma è normale che sia così, guai se fosse il contrario. Poi per quanto riguarda la squadra siamo un bel gruppo, è molto affiatato, stiamo costruendo già le basi per la stagione, quindi sotto quel punto di vista stiamo alla grande. Hai ritrovato Petta, tuo compagno lo scorso campionato, c'è l'arrivo anche di Lanzolla, Canutè, come cresce l'intesa tra i centrali difensivi? No, sin dal primo giorno aveva competta, già ci conoscevamo e abbiamo giocato pure tanti anni fa insieme. Con gli altri ragazzi mi sono trovato bene sin dal primo istante, quindi ci mettiamo a disposizione l'uno dell'altro, ci è stata subito intesa, quindi stiamo lavorando molto bene.